Finalmente il Catania torna a vincere in casa, vediamo adesso i tifosi, qual è il loro parere e come hanno vissuto la gara. Sono contento oggi, speriamo che è vero queste tre partite, tempo ci fiducia. Una bella partita, un primo tempo un po' fermi, però poi il secondo tempo è stato un ottimo secondo tempo. Il Catania è stato più incisivo, più aggressivo e penso che la vittoria è stata più che meritata, a meno nel secondo tempo. Proviamo un po' piatti. Formazione migliore, giocatori che giocano nelle posizioni sbagliate, io penso che Tabbiani o si sveglia o si sveglia. Partita di sicuro non bella, però abbiamo vinto, l'importante è questo. L'importante giustamente è cambiare atteggiamento e soprattutto perché Catania è una piazza importante per questo. Un migliore auguro è tutti i tifosi rossazzurri e la squadra, sperando magari di vincere anche il campionato. Però è ancora un gioco molto scadente, quindi in ogni caso forza Catania. Il Catania sa giocare, però non riesce ad arrivare al traguardo del gol. Ci siamo riusciti con molta difficoltà, l'importante è vincere ovviamente in una partita. La vittoria è meritatissima, sofferta ma meritata. Finalmente il Catania ha portato un risultato positivo anche se il gioco nel primo tempo secondo me non è stato un gioco di qualità. Nel secondo tempo ha ripreso un pochettino e rispetto alle scorse partite ha dimostrato più presenza in campo soprattutto nel secondo tempo ed è riuscito a portare il risultato. Speriamo che sia un punto di svolta. Nel secondo tempo il Catania ha giocato veramente con delle frasi di una squadra da serie B, non da serie C. Forza Catania! Questa oggi è la svolta per sbloccare il campionato. Non ci illudiamo, vogliamo vedere, vogliamo continuare a sperare e vedere se ci riusciamo. La squadra è attrezzata, non dico per vincere il campionato, però per lottare le prime posizioni, perciò sicuramente questo è uno spunto, cioè qualcosa che può dare energia a questa squadra che ci vuole, perché lo stadio Catania dà e la squadra deve dare, questo è l'importante. Mi piace da molto, anche se possiamo fare molto di meglio. Beh, sempre Forza Catania!